Scende ancora il numero dei positivi totali in provincia di Ragusa. Il dato di oggi fa registrare 1.695 casi totali, di cui 1.595 in isolamento domiciliare, 18 in RSA e 82 ricoverati. Questi i dati per comune. Ma è proprio a Vittoria che in queste ore si registra il più elevato numero di reazioni in merito all'ultimo DPCM. Reazioni soprattutto per la riapertura delle scuole. È vero che il numero dei casi è calato, ma è opportuno trovare i sistemi più adeguati al fine di evitare l'arrivo di nuove ondate epidemiche in città. E quanto afferma la segreteria cittadina del Partito Democratico di Vittoria, riteniamo che il governo regionale, dopo aver rimposto la zona rossa nella nostra città, dovrebbe adottare ulteriori provvedimenti limitativi, proprio con riferimento alla scuola, facendo sì che la didattica a distanza prosegua almeno per tutto il periodo natalizio. Anche il candidato al sindaco, Salvo Salemi, è intervenuto per chiedere alla Commissione straordinaria una valutazione oculata in merito a una possibile riapertura degli istituti scolastici. Abbiamo accolto con sollievo, afferma Salemi, la fine della zona rossa per Vittoria. Resta però da valutare con estrema attenzione la questione della scuola. Da un lato è importante che i nostri figli seguano le lezioni, socializzino e riprendano i normali ritmi di apprendimento. Dall'altro, però, non vorremmo che gli sforzi titanici della nostra comunità per circa un mese possano essere vanificati per una riapertura delle scuole. Grazie a tutti.